Buonasera, è la trasmissione del sindaco e questa sera non abbiamo il sindaco, il sindaco è a Canton, non in vacanza, ma c'è un gemellaggio di Canton con tutta una serie di città, con i sindaci di tutta una serie di città gemellate e il sindaco torna lunedì, però non vi dispiacete se vi dico che stasera, non dico che è Meghi dal sindaco, ma quasi, perché stiamo parlando di Gianni Giannini, assessore al bilancio, la sua terza legislatura al Comune, quindi sa tutto i fatti del Comune ed è quel che ha i soldi del Comune, quindi a lui possiamo porre delle questioni certamente non del palo della luce, delle strade e compagnia, ma problemi un po' più grossi, strutturali di quella che è l'attività dell'amministrazione comunale di Bari. Buonasera Gianni, come prima che arrivino telefonate, siccome sono più volte che in questa trasmissione viene posto il problema della casa, tu poi oltretutto sei stato nella precedente legislatura, assessore al patrimonio, assessore alla casa, per cui sei perfettamente ferrato sull'argomento. C'è questo discorso delle maglie 20, 21 e 22 che vengono riproposte ogni volta in questa trasmissione, spieghiamo innanzitutto che cosa sono, proprio un discorso semplice semplice, e a che punto siamo? Sì, sono tre zone di piano regolatore destinate alla edificazione di abitazioni, alla costruzione di case, due sono in territorio di Iapigia, la 21 e la 22 e la Maglia 20 invece è nella zona di Carbonara adiacente allo stadio San Nicola. Sono aree destinate alla realizzazione di abitazioni miste, residenze miste, nel senso che lì verranno realizzate insieme case private, case in cooperativa e case popolari, per evitare che si ripetano gli errori del passato e che si realizzino quartieri tutti di edilizia residenziale pubblica, come San Girolamo o come San Paolo la parte vecchia o come Iapigia la parte vecchia e quindi con tutte le conseguenze di carattere sociale che ne derivano. Tra l'altro San Girolamo è un bel progetto, ho visto il plastico di quello che dovrebbe avvenire, sembra di vivere a Cannes, a Monte Carlo. Sì, è un piano di riqualificazione che risanerà quella zona, non solo dal punto di vista estetico, dal punto di vista edilizio, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture, perché sarà pedonalizzato il lungomare 9 maggio, sarà realizzata una nuova rete fognaria, saranno demolite, ricostruite secondo criteri moderni le case popolari che sono state già ristrutturate due volte, ma inutilmente, perché manifestano sempre gli stessi difetti. Si lascia il problema di queste case che stanno sul mare, però tu hai sul mare la cassa più alta, poi dietro quella cassa più alta una cassa più bassa e poi un'altra cassa più alta, è stata fatta una cosa veramente… Lì si è sviluppata un edilizio in maniera irregolare, il piano di riqualificazione non può correggere quelle storture, può intervenire solamente sulla zona delle case popolari per quanto riguarda le abitazioni, invece le infrastrutture, la viabilità, la fogna, i servizi che saranno realizzati saranno per la fruibilità dell'intero quartiere. Ritornando alle maglie, sono sostanzialmente iniziative che si fondano e si bassano sui tempi dettati dai privati. Noi siamo intervenuti sollecitando queste iniziative. Quindi è un mix di privato e di pubblico? Certo, di privato e pubblico. E' stato fatto l'urbanizzazione? Sì, nella maglia 22, nel primo comparto è cominciata la realizzazione delle opere di urbanizzazione e adesso stiamo per convenzionare con il consorzio del secondo comparto e quindi partiranno le urbanizzazioni del secondo comparto, mentre nella maglia 21 abbiamo modificato leggermente il metodo e abbiamo fatto una riunione con i consorsi di tutti i comparti, i consorsi sono i consorsi dei privati e delle cooperative proprietari delle aree, dei suoli, per cui la progettazione delle opere di urbanizzazione è avvenuta in maniera unitaria, si sono trovate le soluzioni tecniche con l'Amgas, l'Aquedotto, l'Enel, la Telecom per garantire l'esistenza di tutti i servizi e fra qualche giorno, molto presto, ci sarà un'altra riunione con tutti i consorsi per definire una volta per tutte le soluzioni adottate e quindi poter avviare contestualmente la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intera maglia. Questo significa che i tempi saranno notevolmente accorciati perché partirà poi la realizzazione di tutti gli alloggi. Stiamo parlando di 3 mila alloggi? Stiamo parlando di 3 quartieri nuovi, stiamo parlando di 3 piani particolareggiati. Quindi 3 mila famiglie? Sono molti di più, credo che arriveremo a realizzare case per 15 mila persone. Quindi tutti quei baresi che sono stati costretti ad andarsene in periferia, le frazioni vicine, ma non solo le frazioni, anche i comuni, avranno la possibilità di tornare nella città, di insediarsi, di comprare la casa o di averla in concessione, come è il caso popolare. Sì, questo sarà possibile, però intanto con questa iniziativa diamo una risposta alla domanda antica di alloggi. Se tu pensi che abbiamo una graduatoria di cooperative non proprietari dei suoli, che non vengono assegnati da 25 anni, che si compone di oltre 60 cooperative, comprenderai bene di quanta necessità di alloggi. Ma perché questa cosa? Perché è stato fermo per tanto tempo? Perché la concessione dei suoli alle cooperative determinava una contrazione dell'attività dell'imprenditoria privata, delle lottizzazioni private. L'immissione di questi alloggi sul mercato determinerà anche un livellamento dei costi. I mobiliaristi della città non saranno tanto d'accordo. Beh, ma noi dobbiamo tenere più a cuore gli interessi delle famiglie che non possono accedere facilmente alla casa. Torniamo su questo argomento, perché mi sembra che ci sia una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ho sentito la situazione degli alloggi popolari, ma la graduatoria definitiva è già uscita o no? Grazie. No signora, la graduatoria definitiva non è ancora uscita, è all'esame della prima commissione di assegnazione alloggi, le domande sono parecchie, sono circa 3.500, quindi ci vuole un po' di tempo perché le esaminino tutte. Sicuramente possiamo dire una cosa però, credo di poter assumere un impegno, che è quello che la graduatoria sarà pronta prima che siano pronte le nuove case popolari, per cui non c'è la necessità di stare in ansia, la graduatoria sarà prontata in tempo utile perché vengano assegnate le case appena ultimate.